Oggi Italia che piace è qui con l'azienda agricola con l'alto con Pier Andrea Moro. Benvenuti e ben arrivati. Vi trovate nella cantina dell'azienda agricola, come la vedete che sembra un po' una caserma austriaca. Questo perché è stata costruita nel 1904, quando i concetti di costruzione erano questi. Prima nel 1904 il vino veniva fatto in castello. Non facciamo vino nel 1904, facciamo vino da più di mille anni. Infatti con l'alto fanno vino da prima dell'anno 1000. Il primo documento che parla di vigneti è del 1954. Dopo mille anni di storia, oggi la cantina è guidata dalla principessa Isabella di Coll'Alto. Eccoci a Pordenone. Siamo stati accolti in un modo stupendo dal Vespa Club di Aviano. Siamo qua con la Presidente Paola. Intanto complimenti per mi fa piacere vedere un Presidente donna. quest'anno è il decimo anno della fondazione del club. Stiamo preparando una grande festa a cui siete invitati, se poi vi faremo sapere. Non rimane che da chiedersi quali avventure vivranno nei prossimi giorni i nostri amici. Ciao! Ciao!